ORIEL JUNGLE ORIEL JUNGLE ORIEL JUNGLE ORIEL JUNGLE Maschere Tigris, mi ricevete? Ci siamo, pronti? Affermativo Fuoco nemico intenso, dobbiamo inserirci subito Aprite il ponte di smarco Pronti, ci siamo Siamo pronti, Gator, usciamo Usciamo Alpha 2 distrutto Bravo, ok Alpha 1 ok Gator, andatemene Retribution in uscita Il terminal è assurdo, sentente Non mi servono le tue coordinate Contatto Tratto destro Colpito Bravo, tutta destra Rigevuto, buona casa Far pulsare le maniere forti Occhio Reggetevi Eton, tutto bene? Benissimo Ottima guida, sergente Spostati, Eton Prepariamoci e prendiamo il terminal Rispediamo il set death da dove è venuto Nella sezione è isolata Portellone d'emergenza aperto Passeremo di là Regruppiamoci Ecco la gravità Possibile ok Maschere Muoveci Attenzione Isolamento del terminal in atto Evacuare immediatamente Attenzione E' una strage E' una strage E' una strage Isolamento e la sicurezza del terminal in atto Il set death non fa prigioniere Qui è bloccato Non si passa Proviamo al terzo piano Nemici in zona Tutte le squadre Forza è stato Scudi e chiusi Scudi e chiusi Tiriamo il muro per attraversare Attenzione, arrivamento del terminal in atto. Evacuare immediatamente. A tutte le unità, qui guardia costiera 1. Mantenere la calma e procedere verso l'uscita più vicina. Siamo bloccati, in fondo al terminal, sala D. Diamoci da fare. Devo morire tutti. No! No! Né sotto. Piano terra! Ti ammazzo! Andiamo a riprenderci il posto. Ora è una. Ehi, apritemi! Ok, penso io! Ora è una. Andiamo! Occhio alla decompressione! Scuti chiusi! Ehi, apritemi! Scorategli! Temici, la davanti! Ho un bersaglio! Ora è una! No, c'è un bersaglio! Capritemi! Usa una granata! Sono lontano di nuovo! Sì! Aiuti! Non ci vediamo le mani in campo! Laggiù! Laggiù! Finciamoli! Del carico! Scorategli! Flotte! Versaglio di più ai modi! No! La finestra è saltata! Anche! A che! Non è finita! 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 Sono lontano di nuovo! Non è finita! Non è finita! Non è finita! Non è finita! Stiamo spazzendo via! Portate subito i C6! Lassù! Sì, ci sono! Ascetto, uomo! Ascetto, uomo! Sordidemi! Nemico! Ole Una! Guardando! Ole Unici! Stiamo spazzendo via! Siamo spazzendo via! Fimici! Siamo spazzendo via! Siamo spazzendo via! Copritemi! Sta scappando! Provata! Via dalla zona di decompressione! Gli scudi si chiedono! Contatto, ore Una! Ascetto! Ascetto, da sinistra! Scop mani! Voi da sinistra! Scusate voi! Scusate voi! Scusate lei! Scusate lei! Scusate! Non esiste nessuno! Contatto, ore Uno! Ma esiste lei! Ampia la decompressione! Tutti chiusi! Sono alla sua porta! Planeta, via! Ore 12. Roger, lo vedo! Rumpir ici! Park, arrivi! Ehi, sovrite! 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 Fuoco amico! Avanti! Cosa una canasta, re! Via libera! Libera! Anche al sicuro! Squadra! Andiamo! Felice di vedervi. Quei gecoli sono lì per noi. Blocca la porta, soldato. Ricevuto. Sei autorizzato al lancio? Affermativo. Allora facci partire. Cosa avete in mente? Abborderemo una miraglia nemica per abbatterla. La fase terrestre dell'operazione è conclusa. Agli scarco e l'aerea. Sarà il suo battesimo di volo. Ho un bel coraggio, capitano. Uomini, resistete. Manderemo qualcuno. Anzioniamo l'ascensore. Bene. Quali sono i miei ordini? Vieni con noi, Ethan. Signor sì. Omar Consulter. Ethan, tu stai con me. Non è un'esercitazione. Molly e robot. Presto a marine. Ho già deciso, serpente. Apprezzo la fiducia, capitano. Prendiamo il volo. Prendiamo il volo. Apprezzo la fiducia. Perciutto. Prendiamo il volo. Grazie a tutti